fantastica si piace tantissimo mi piace quindi abbiamo messo il top di seta nel rosa che era quello indossato all'inizio come lingerie con il nuovo pantalone di film matignon questo è un pantalone proprio con la gamba larga è un po di più che un palazzo è proprio un maxi pantalone questo ha l'elastico solo dietro in vita mi sembra o non ce l'ha l'elastico no non ce l'ha l'elastico perché ha la fuschacca ha la cerniera invisibile a lato ed ha la fuschacca in vita è bello bellissimo sono qua per andare a pranzo anche a cena tranquillamente è una cosa molto easy questa è proprio una opzione molto carina perché o gli metti la sneakers bianca oppure anche se hai una sneakers più particolare più colorata oppure metti anche una scarpa bassa o un tacco vuoi mettere un tacco qui ti sta tranquillamente però è una cosa giovane e moderna che secondo me non ha età questo perché potrebbero metterlo tanti tanti tipi di donna sia la ragazza giovane come te che anche quella un po più grande come me e vedi che tu hai fatto bene al top l'ha messo dentro si è messo dentro perché così si vede bene la vita poi fatto un bel fiocco in vita e qua e qua non manca mai però sono fantasie che ormai sono un must non passano mai vedete come hai fatto bene il top quindi è un top che nasce come lingerie ma delle finiture così belle che voi lo potete utilizzare tranquillamente come abbigliamento perché alla finitura proprio dell'abbigliamento anche davanti è tutto qui sulla sulla scollatura vedete che è tutto doppiato non è semplicemente cucito e finita lì no 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 è tutto doppiato quindi ha maggior sostegno e anche la trasparenza è completamente diversa questa è una settatura italiana infatti non è inconsistente ha una bella consistenza il pantalone invece è leggerissimo il pantalone è questo pensato per i talli per i grandi talli